La nostra azienda nasce nel 1903 ad opera del mio bisnonno, che era un pastoicciere, erboristeria, era un appassionato di erbe, radici e semi, era sempre alla scoperta di nuove ricette. Abbiamo due versioni, la versione classica, che è la ricetta del mio bisnonno, e la versione Gran Riserva, che è rivisitata da noi ed è completamente senza zucchero, invecchiata in botte di rovere ed ha un quantitativo di estratto doppio rispetto alla versione classica. Se volete venirci a trovare, noi siamo a Fondi, in provincia di Latina, oppure online sul nostro sito www.amaroherbes.it